Fabio Cavallucci è il nuovo direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Pecci. 53 anni, attuale direttore del Castello Užadovski di Varsavia, grande esperienza internazionale con una vasta rete di contatti con la scena artistica a tutti i livelli, Cavallucci l'ha spuntata sugli altri 37 aspiranti direttori del Pecci. La scelta del consiglio direttivo presieduto dal presidente e sindaco Roberto Cenni è alla fine caduta su Fabio Cavallucci, una scelta, come è stato sottolineato nella conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore, compatta. Il Pecci Targato Cavallucci sarà non un centro per l'arte contemporanea, ma un centro delle arti dove troveranno spazio la musica, il cinema e la danza, un Pecci, per dirla in altre parole, più a portata di mano. Un processo di ascolto per cui vari gruppi, varie associazioni, individui, possano dare la loro opinione su quello che si aspettano dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, credo sia importante anche per creare effettivamente un luogo che sia radicato nel territorio. E qui sta la vera scommessa, cioè non pensare che diventa un centro internazionale solo perché si espongono artisti internazionali, capire quali sono le esigenze del territorio, quali risposte si aspetta che il Pecci dia al territorio e lì costruire invece i progetti artistici. Intanto si continua a lavorare al completamento del raddoppio del Pecci per il quale si pensa concretamente a una dimensione regionale. La data di inaugurazione, prevista a metà maggio, potrebbe slittare. Discussa la nomina del direttore del Pecci, discussa per l'incursione di Vittorio Sgarbi tra i 38 partecipanti al bando, di lui si è parlato come di un possibile super manager della cultura. Non è possibile, ha chiarito il sindaco, si dovrebbe fare un bando pubblico. Una persona come Sgarbi può essere molto utile a questa città, ma credo però che ci possa essere, non solo nei suoi confronti, ma anche delle altre persone che hanno partecipato, delle ottime presupposti per poter relazionare con loro.